ormai io sono da appartamento ma non è più non sei più a casa tua? No io ormai sono da appartamento, vieni te lo faccio a fare ma che capelli hai? Io ormai sono da appartamento Martina in che senso? Sono da appartamento guarda ti faccio vedere il cesso come me vieni guarda 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 che bello il cesso io ormai sono da appartamento io sono da all'appartamento io sono da appartamento guarda che bello Io ormai sono d'appartamento Guarda che bello qua Questo si chiama Open Spice Ed è praticamente Cucina Tutto insieme Salone Io ormai sono d'appartamento Guarda, dì qua Ma in che senso Questo è lento Guarda, io sono d'appartamento Ma in che senso Sei d'appartamento Io sono d'appartamento In che senso Guarda, Marti Qua c'è il territorio Non ho capito Qua c'è il territorio Non ho capito questa cosa D'appartamento Vieni qua Sono d'appartamento Guarda Sono d'appartamento Cazzo D'appartamento Guarda che bella è la terrazza Ma perché hai i capelli così cari? Perché ormai sono d'appartamento Sono d'appartamento io ormai Ma io non ho capito sta cosa dall'appartamento Io ormai sono d'appartamento Dove vai? Sono d'appartamento Dove vai in pigiato?